Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra B1 Variante e Aglio, provvedimento in vigore fino alle 18, dove restano code per viabilità esterna che non riceve verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipirì per incidente, 3 km di coda in direzione Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est. Verso Firenze restano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Riena a salutarci per il traffico ferroviario, per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Firenze di Fredi e Firenze Statuto. I treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.